buongiorno eccoci di nuovo presento sono arrivate le nostre galline le prime galline tra qualche giorno arriveranno delle altre e si sono integrate benissimo con le anatre fin dai primi giorni senza litigare niente vanno d'accordo stanno insieme pascolano beato tra il verde del campo qualche anatra inizia da far l'uovo ora ve lo mostro le galline ancora no ma da qualche giorno penso che anche le galline inizieranno a farlo ora vi mostro l'uovo di nana anana per modo di dire anatra ora vi mostro uno dei primi uova di anatra nei giorni scorsi l'abbiamo portati via alcune ora abbiamo deciso di lasciarne da oggi in poi li lasciamo per poterli fare covare speriamo di avere dei piccoli anatropoli prossimo me poi ho pensato di costruire questo capanno piccolo capanno rifugio dove giusto messo della cenere mista sabbia dove dove le galline possono venire a farsi il proprio bagnetto diciamo così che si vengono a disinfettare nella cenere speriamo che funzioni per ora ancora non ce l'ho viste dentro ora vediamo un po bene vi saluto se vi piace il video intende un like alla prossima